San Calogero San Calogero era un emigrante che è stato costretto a fuggire perché la sua terra era dominata di Saraceni come oggi scappano le persone dalla Libia che c'è la guerra il mio paese è che è in Congo la Repubblica della Mogatia del Congo era un insegnante e il mio paese è lavorabile nel deserto io ti passi Mireille io ti passi da mamma ok ciao ciao buongiorno bebe sa va? ciao 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 ciao